La scubra più bella del mondo senza calcio! La scubra è il mister Pierpaolo Vigioni, con il numero 31 Matosemich, con il numero 4 Carrero, con il numero 5 Riccione, con il numero 10 Caso, con il numero 16 Mercuri. Con il numero 23 Camporese, con il numero 32 Larrimei, con il numero 34 Florenzi, con il numero 36 Congolò, Con il numero 94 Liotti, con il numero 99 Di Pardo! A disposizione Bacchina, 24 Scari, 26, vi venite!